Ammazzato per una banale lite scoppiata per futili motivi, forse per pochi spiccioli, forse per la droga. Un movente difficile da trovare che i carabinieri di Prato hanno faticato a ricostruire per dare un senso alla tragedia accaduta un anno fa alla Querce, nel Pratese. L'uccisione di Mirko Congera, 44enne, e il ferimento grave della compagna Daniela Gioitta, nella casa dove i due convivevano. Fin da subito i carabinieri sono risaliti all'identità del killer. Grazie alla testimonianza della donna scampata per miracolo all'agguato, è un testimone vicino di casa della coppia. Ad accoltellare i due in casa fu senza dubbio l'amico Cristian Ottavi, 43enne, da un anno esatto in carcere con le gravi accuse di omicidio volontario e tentato omicidio. In questo anno Ottavi non ha mai rilasciato una piena confessione di quello che è accaduto nella notte tra il 28 e il 29 settembre di un anno fa. Ha sempre dato ricostruzioni contrastanti, senza mai dire quale sia stato il vero movente dell'aggressione. Per ricostruire quella notte di sangue i carabinieri si sono avvalsi dell'aiuto di un gruppo di persone, originarie del Marocco, che quella notte si trovavano insieme ai due. Probabilmente a causa di un uso esagerato di alcol, nacque un violento litigio tra il capobanda dei marocchini e Ottavi. Lo straniero lo colpì con una violenta testata, tanto da fargli perdere quattro denti. Secondo quanto riferito, Congera non avrebbe fatto nulla per aiutare l'amico che si trovò a dover fronteggiare da solo il suo aggressore. Anzi, Ottavi lo accusò di fronte a tutti di aver aizzato l'uomo contro di lui. I due tornarono a casa e un paio di ore dopo, Ottavi si vendicò dell'amico in maniera brutale, forse spinto dallo stato di alterazione alcolica in cui si trovava.